Nessuno è voluto mancare. A salutare per l'ultima volta il sindaco di Pozzilli, Nicandro Tasso, c'era talmente tanta gente che alla fine si è deciso di celebrare la messa nel piazzale antistante, la chiesa di Santa Caterina. Alla funzione ufficiata dal vicario della diocesi di Sernia Venafro, Monsignor Claudio Palumbo, hanno partecipato numerose autorità politiche, i sindaci, non solo quelli molisani, ma anche alcuni delle province di Caserta e Frosinone e naturalmente tantissime persone provenienti anche dai paesi vicini, tutte legate al primo cittadino, da un rapporto di profonda stima e affetto. E tanti sono stati messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia Tasso, tutti per sottolineare sia la sua grande forza d'animo, anche nella lotta contro la malattia, sia il suo impegno da amministratore. Per anni, infatti, Nicandro Tasso ha combattuto con tutte le sue forze contro un male terribile, ma questo pesante fardello non ha mai fatto venire meno l'attenzione per la sua comunità. Fino all'ultimo si è impegnato per portare a compimento i vari progetti avviati durante la sua attività amministrativa, ma Tasso si era dato da fare tantissimo anche sul fronte della lotta all'inquinamento ambientale, ancora prima che il pentito di Camorra, Carmine Schiavone, sollevasse un polverone con la vicenda dei rifiuti interrati. In tempi non sospetti, il sindaco di Pozzilli si era recato alla prefettura di Sernia per chiedere maggiori controlli, anche sulle presunte infiltrazioni da parte della malavita campana, non soltanto nella zona industriale al ridosso del suo paese, ma anche sulla piana di Venafro. A suo avviso tutti sapevano, ma di fatto nessuno aveva mosso un dito o perlomeno non erano stati fatti controlli abbastanza efficaci.